Buon mercoledì 23 dicembre. Nasce il figlio di Zaccaria e di Elisabetta e si chiamerà Giovanni anche se la consuetudine del Tempio vorrebbe che si chiamasse Zaccaria e fosse destinato all'ordine sacerdotale, ma la coppia obbediente alla parola del Signore è ferma nel rompere con la tradizione, per accogliere il nuovo messaggio, lo chiamerà comunque Giovanni e sarà colui che percorrerà non la strada del Tempio, ma andrà nel deserto per annunciare il nuovo messaggio, per annunciare l'avvenuta di Gesù, l'avvenuta del Signore. Giovanni sarà dunque profeta, amico e maestro per Gesù e riconoscerà la sua indegnità nei confronti di colui che viene del figlio dell'uomo, che è il logos che si fa carne. Giovanni è un grande profeta che nasce da questo movimento esistenziale dove una coppia sterile è chiamata a generare all'insegna della dimensione dell'amore che Dio ha infuso negli uomini e ha profondamente ricordato attraverso la sua incarnazione nell'umanità. Questo è il senso autentico che ci richiama nei confronti del Natale, nei confronti della nascita e della necessaria accoglienza del nuovo messaggio che è capacità di percorrere con fede e speranza il deserto e testimoniare profeticamente che la legge dell'amore non solo è possibile ma è già tra noi. Buona giornata a tutti.